Siamo presenti alla premiazione della gara Coppa Olio Nuovo, Frantoio, La Bergeria. Bene. La gara si è giocata con Formula Step 4 e Endicap, due categorie. Al tavolo della premiazione abbiamo il signor Nello Raffi, titolare del Frantoio, La Bergeria, che ringraziamo. Per questa nuova gara del calendario 2021 ringraziamo il signor Raffi per aver sposato la partecipazione e la sponsorizzazione di questa gara, è un'eccellenza locale. E ora gli scelgo la parola così può presentare a tutti la sua azienda che è qui a pochi chilometri e di nuovo grazie. Bene. Buonasera a tutti. Cioè, questa azienda, sono molti anni, ma che la seguiamo io e mia moglie, sono circa cinque anni. E noi siamo nel comune di Castiglina Pescaia, siamo accanto all'azienda Landana. Dove vedete il Piner Cipressimo, siamo accanto a loro. E abbiamo tutto questo bel poggio riguardo alla loro azienda. Sono 14 ettari di oliverio, sono circa 4.000 piante. E abbiamo tre tipi di varietà di olivi, frantoiano, mercino e moraiolo. Quest'anno abbiamo fatto questa produzione abbastanza un po' sanificata, abbiamo avuto una grossa siccità. Le olive ce ne erano molte, ma piccolissime. Abbiamo fatto, diciamo, un olio fatto da chicchi di pepe, tra virgolette. Passiamo. E poteva andare molto meglio. Però l'olio è venuto buono, è venuto molto buono. In azienda, se ci ritroviamo, abbiamo avuto due qualità di olio. Abbiamo fatto un moraiolo in purezza, abbiamo fatto una novità, queste olive, queste blend di olive, insieme a dei limoni. Sono dei limoni, abbiamo fatto quest'olio un po' particolare che faremo assaggiare insieme. Ancora a tutti, sia stata la giornata per voi, è stato un piacere essere qui, così, per primiare il nostro olio. Ora faremo assaggiare addirittura con delle buschette. Grazie. Procediamo con l'assegnazione dei premi speciali, iniziano con il MIR, strutture B, unico alla UVA 15. Nessuno ha assegnato. E va bene. A estrazione. Drive in contest, Femilia, la Puganiersi, lo vince Ingrid, Grossman. Brava la signora Grossman. Abbiamo delle saponette fatte con ogni doliva, fatte da noi. Ma quella è l'artista, gliela è l'artista. Brava, faccio... Aspettaci la Grossman, c'è la Grossman. La foto, è la foto, è la foto. Che è fatto, rispetto, brava signora Grossman. Drive in contest, maschile alla buca 10, se la giudica Gianni Grifoni. Bravo, Gianni. Perfetto. Già fatto, già fatto. Preversione adesso del primo classificato, signore, se la giudica con 31 punti, Pier Gerardo Pacelli. Bravo, bravo, bravo. Per la doccia? Vabbè, via la resitanza. Sì, semmai dite lo che c'è. E primo signore con 30 punti, Emanuela Bolognini. Brava la signora Bolognini. Perfetto. Premiazione adesso della seconda categoria, con handicap di gioco da 21 a 36, si classifica a secondo netto, con 34 punti, Eugenio Gianni Grifoni. Ciao, Eugenio. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Era raccomandante. È troppo facile, eh. Io questo lo lascio a estrazione. A estrazione. Siamo a segretario. Grazie. Grazie, Laura. Brava. 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 Preversione adesso della prima categoria, con handicap di gioco fino a 20, secondo classificato nel netto, con 35 punti, mister Costantino. Bravo, Costantino. Bravo, Costantino. Bravo, Costantino. The best. The best in the town. The best in the town. E' troppo qua. Perfetto. The best in the town. The best in the town. Olio e vino, Costantino. C'è una cantina. C'è una cantina, Costantino. Vince il primo netto di prima categoria, con 35 punti, Gianni Giudici. Bravo, Gianni Giudice. Bravo. Perfetto. Bravo. Bravo, molto bene. perfetto bravo